buongiorno e ben ritrovati all'astro tg oggi come sempre parleremo di transiti planetari di posizioni planetarie in quello che l'ambito dell'astrologia come facciamo sempre qui all'astro tg e come faccio io in quello che il mio mestiere infatti per chi è interessato a consulti astrologici può vedere giù nel link il link per i consulti sul sito e prenotare un tipo di consulto qui sul canale youtube ci occupiamo sempre di astrologia ma più a un livello non personale ma un livello geopolitico per capire gli avvenimenti che avvengono nel mondo le previsioni dell'astro tg oggi saremmo dovuti stare a parlare di guerra o cominciare ad inquietarci nei riguardi di una possibile guerra perché infatti la previsione dell'astro tg della stagione 9 la seconda previsione parlava di una possibile escalation bellica o di una vera e propria guerra che poteva scatenarsi fra il 21 maggio e il 5 giugno non è venuto e quindi oggi ci troveremo a parlare ancora una volta di un argomento molto in voga in questo periodo che l'intelligenza artificiale discuteremo di come questi transiti planetari che hanno fatto pensare ad una possibile guerra anche se dobbiamo rimanere comunque allerta perché fino al 5 giugno c'è ancora del tempo però parleremo di come questi particolari allineamenti planetari invece della guerra hanno portato una sorta di ottimismo una sorta di sensazione di cambiamento e al contrario di pace una certa euforia è un cambio completo di energie da energie più cupe a energie un po più gioiose così come vuole la primavera cambiamento energetico quindi positivo che spinge verso l'alto che porta un ottimismo e vediamo come tutta questa energia positiva si va a mischiare con quello che è il progresso la sensazione di progresso e di ottimismo verso il progresso una rinnovata pulsione al progresso resa irresistibile sin dall'ingresso di plutone nel segno dell'acquario che non ha tardato a farsi sentire l'intelligenza artificiale che l'argomento principale che tratteremo oggi è stata quasi lanciata con l'ingresso di plutone in acquario rendendo verosimili tutte le previsioni fatte in più anni dalla strategia riguardo l'ingresso di plutone nel segno dell'acquario l'intelligenza artificiale parleremo di tutto questo oggi dopo la sigla quindi lanciamo la sigla così avete il tempo di mettere like debbonarvi al canale se non l'avete ancora fatto di cliccare sulla campanellina se volete essere aggiornati sull'uscita di un nuovo video e di condividere il video alla fine se vi è piaciuto rieccoci alla strategia per parlare di questo incredibile cambio di energie in positivo in energie vibratorie che ci spingono verso l'alto e verso la positività e come poi questo si connubia con una tendenza all'ottimismo verso il progresso perché i transiti planetari che ci avevano fatto spiegare una guerra invece hanno portato questa sensazione sebbene il periodo dove può scoprire la guerra non è ancora finito perché va fino al 5 giugno però la cosa buona è che probabilmente dopo questo periodo se non succede niente probabilmente potremo stare tranquilli ancora a lungo e fino al 2025 forse il centro di tutta la tensione sarà sulla creazione di questo nuovo progresso scientifico che plutone in acquario col suo ingresso ha lanciato attraverso l'intelligenza artificiale certo è anche vero che plutone sta portando a quanto pare ottimismo insieme agli altri transiti planetari che andremo a vedere col suo ingresso in acquario ma il suo ingresso in acquario non è ancora definitivo perché deve appunto ritornare almeno due volte nel segno del capricorno e anche starci parecchio tempo fino ad un ingresso definitivo soltanto nel novembre del 2024 perché questo potrebbe portare a un rimescolarsi del progresso ottimistico di plutone in acquario almeno di questo primo ingresso di plutone in acquario che ci lascia intravedere cose geniali così come quando il primo ingresso di saturno in acquario ci lasciò intravedere la soluzione incredibile desideri sperimentali che poi si verificò essere il più grande incubo ci pensare il peggio è anche il fatto che ben due volte marte passando al grado zero del toro e anche venere quando è passata al grado zero del toro e questi due pianeti si sono messi anche loro all'epoca in quadratura a plutone però probabilmente plutone era ancora nel segno del capricorno bene questo ha fatto scattare spesso diverse irrequietezza a livello mondiale una fra tutti l'attacco al campidoglio che ci fu proprio quando marte entrò quadratura a plutone al primo grado del toro e ci ricordiamo l'ingresso al campidoglio perpetrato da questo esponente dei rivoltosi che aveva proprio due corna di toro una persona che fa un attacco un attacco bellico con corna di toro quindi marte che entra nel toro in quadratura a plutone nel segno del capricorno fra l'altro un altro animale con le corna in seguito con l'ingresso di venere in quadratura plutone ai primi gradi del toro c'è stato l'arresto di donald trump quindi ecco sono gradi abbastanza particolari giove non ha portato lo stesso effetto può perché giove nel segno del toro sta benissimo ma anche venere sta benissimo però giove è il grande benefico attualmente giove si è congiunto al nodo nord quindi riceve sempre la quadratura da plutone e da marte ma congiunto al nodo nord bene sappiamo che nel toro c'è anche urano che rappresenta tutto quello che il progresso e ci deve essere a livello proprio strutturale della società e il nodo nord riverbera questa energia uraniana di evoluzione e di progresso bene giove subendo la quadratura di plutone e di marte nel segno del toro congiunto adesso al nodo nord e ci sarà ancora per un po' effettivamente porta un grande ottimismo perché il pianeta dell'ottimismo viene un ottimismo verso l'evoluzione umana di un giove in toro un toro uranizzato quindi un ottimismo verso il progresso che viene sentito come un'opportunità un valore anche la capacità proprio di fare soldi molti stanno parlando di fare soldi con l'intelligenza artificiale quindi le opportunità di guadagno a livello di ogni singolo individuo immense date dall'intelligenza artificiale quindi stiamo sognando proprio il meglio e perché quindi questa quadratura forte come marte pianeta della guerra e di plutone un altro malefico che è il pianeta della morte a giove non ha portato invece la guerra bene perché giove di per sé in toro non parla di guerra l'unica cosa che ci ha fatto pensare una guerra e sono stati precedenti precedenti passaggi di marte al primo grado del toro in quadratura plutone abbiamo addirittura un giove a primi gradi del toro in quadratura plutone in quadratura a marte ma questo non ha portato niente diciamo che l'opposizione marte da una parte e plutone dall'altra a giove hanno aumentato semplicemente questo ottimismo questa espansione questa voglia di andare verso l'evoluzione del nodo lunare in toro un'evoluzione verso trovare nuove soluzioni anche per poter approfittare della propria ricchezza costruirsi un futuro in base a quelle che sono le nuove scoperte un giove in toro congiunto al nodo nord un toro uranizzato che riceve l'energia da una parte di marte il leone che è la voglia del popolo di trovare un riscatto di trovare una propria dimensione però verso un'evoluzione tecnica un'evoluzione scientifica che possa giovare a noi stessi quindi un grande ottimismo di giove da una parte e una voglia d'azione di un marte che in leone vuole farci sentire realizzati vuole farci anche esprimere a livello artistico come attraverso un giove in toro congiunto al nodo nord dall'altra parte plutone invece è lui l'artefice di tutto quello che ci porta verso un progresso artificiale acquariano di quel segno dell'acquario governato appunto da urano che è nel segno del toro quindi tutto questo si mescola verso un ottimismo incredibile verso il progresso e la luna nuova che c'è stata poco tempo fa agli ultimi gradi del toro e adesso l'ingresso di sole e luna nel segno dei gemelli ebbene questo va ancora di più aumentare il nostro ottimismo e le prossime lune la prossima luna piena sarà col sole nel segno dei gemelli e la luna luna piena sarà nel segno del del sagittario quindi ancora più leggerezza e ottimismo e in seguito la prossima luna nuova sarà nel segno dei gemelli quindi due segni mobili sagittario gemelli il sole in gemelli un segno leggero curioso e che ci preannuncia già quell'ottimismo che ci sarà anche a livello tecnologico quando sarà lo stesso urano che entrerà nel segno dei gemelli ebbene lì ci sarà l'apoteosi e nel 2025 l'apoteosi poi magari la concretizzazione nei suoi massimi livelli e l'integrazione completa nella società di quella che l'intelligenza artificiale avete visto come non si parla più di nient'altro che l'intelligenza artificiale da quando plutone è entrato nel segno dell'acquario ed è proprio come ci aspettavamo la nascita del transumanesimo perché appunto l'intelligenza artificiale sebbene è una macchina che non ha niente a che fare con il corpo umano è un qualcosa ancora staccato dal corpo ma ha un potenziale di intromissione in tutta quella che l'attività umana lì dove serviva l'uomo l'uomo non servirà più e se l'uomo vorrà essere ancora diciamo in grado di sostenere i tempi che accelereranno sempre di più dovrà integrarsi interagire con l'intelligenza artificiale ebbene questo è il punto di oggi visto tutto questo ottimismo visto questo cambio di energie cerchiamo di dare anche una connotazione positiva vedere magari i pro non solo i contro dell'intelligenza artificiale quando abbiamo parlato di plutone in acquario di transumanesimo parliamo comunque di un vasto periodo periodo di 20 anni in cui plutone sarà nel segno dell'acquario dove verranno interpretate sia i lati positivi di questa evoluzione scientifica tecnologica ma anche quelli negativi e così come l'acquario si divide in due onde ci saranno due tipi di società come abbiamo detto più volte una che si farà un po sottomettere da quella che l'intelligenza artificiale o dalla tecnologia in generale è una invece che potrà magari cavalcare questa ondata di progresso cercando comunque di rimanere in un certo cammino spirituale di non farsi anch'essa poi sommergere tutta questa innovazione e non farsi schiacciare da manie di onnipotenza quella società che si farà schiacciare dal progresso tecnologico si farà schiacciare anche a livello proprio fisico perché a un certo punto l'intelligenza artificiale dovrà entrare nell'internet delle cose gli oggetti che potranno fare scelte migliori dell'essere umano e quindi inter far interagire intelligenza artificiale sul piano fisico mi fa pensare questo che prima o poi l'intelligenza artificiale dovrà prendere scelte o dovrà muovere robot nella cura delle persone questo sia nei loro progetti da tantissimo tempo la chirurgia ad esempio la chirurgia che può essere anche più precisa con l'intelligenza artificiale abbiamo visto che l'intelligenza artificiale ci supererà su vari ambiti e probabilmente anche in quello tecnologico e può essere sì più precisa però forse più invadente si potrà forse ricorrere sempre di più a questa scienza medica scienza robotica gestita dall'intelligenza artificiale per tutto e per niente un po per la frivolezza magari per chi vorrà cambiare il proprio corpo o altri per necessità che avranno un corpo sempre più pieno di problematiche perché già lo siamo oggi con questo livello di evoluzione tecnologica abbiamo tanti problemi fisici poi con gli sbracciamenti voluti dal sistema proprio per andare incontro a una maggiore incapacità del corpo umano a resistere o a sussistere semplicemente una maggiore fragilità del corpo umano a proteggersi dalla natura in generale dal semplice vivere un'incapacità indotta per poi poter attraverso le case farmaceutiche o robotiche non so quello che sarà far nascere un mercato di aiuto tecnologico medico scientifico all'essere umano per renderlo come una macchina che ha bisogno continuamente di aggiustamenti e di pezzi di ricambio questo per quanto riguarda la scienza medica gestita dall'intelligenza artificiale dalla robotica e l'uomo dovrà interagire con essa e probabilmente spesso dovrà subire cure di tipo robotico quindi avere impianti robotici sul corpo perché gli permettono di vivere avere nanotecnologia dentro il corpo o avere microchip che lo proteggano da eventuali scompensi cardiaci per esempio che possono allertare il sistema centrale avere soccorsi o cure a distanza bene questa è la facciata più dark del transumanesimo poi c'è invece la facciata più creativa e questa è anche qui anche nella facciata più creativa vi è l'intervento dell'intelligenza artificiale nella creazione nella possibilità di creare e anche qui molti anche per quanto riguarda l'aspetto creativo dell'intelligenza artificiale e non l'aspetto medico verranno schiacciati da essa questo perché ad esempio non riusciranno a stare dietro alla velocità con cui andranno le cose e dovranno interagire sempre più efficientemente con l'intelligenza artificiale essere competitivi con essa e così come vuole elon musk impiantarsi non solo il microchip sottocutaneo che più uno scopo medico di controllo ma anche il neural link nel cervello che sarebbe questa interfaccia che permette al nostro cervello di interagire con l'intelligenza artificiale renderci la vita che sarebbe molto più frenetica renderla più facile più gestibile perché ci accelererebbe a livello dell'intelligenza artificiale ma il problema è che accelerandoci vorremmo fare sempre di più e questo ci renderà completamente alieni degli esseri alieni degli esseri viventi non più umani abbiamo dunque visto come in campo medico scientifico e in campo invece creativo l'intelligenza artificiale può avere conseguenze nefaste però è anche vero che come spesso fa la tecnologia ci possono essere invece dei modi di abbordarla molto positivi nello stesso campo medico scientifico ad esempio chi a un certo punto potrebbe aver bisogno effettivamente di un'operazione anche se si tratta di persone integre che non si sono manomesse autosabotate il corpo e che magari non si sono messe neanche il microchip che non hanno fatto gli sbracciamenti che non hanno messo il neural link ma gli succede un incidente magari sono anche bene in salute mangiano bene fanno sport perché hanno una forte capacità di voglia di volontà di rimanere integri e staccati da questo sistema perverso se gli sarà concesso loro in una società giusta e acquariana di poter usufruire anche delle tecnologie del sistema bene si potranno fare operare chirurgicamente ad esempio per un incidente perché a tutti può capitare un incidente e un bisogno di farsi riparare dai robot e dall'intelligenza artificiale quindi questo può essere il lato positivo che anche magari in una società giusta anche chi rimane sulla retta via in un certo senso potrà se ce lo consentono con molta umiltà usufruire di questa tecnologia magari anche priva dell'errore umano questo sarebbe bellissimo dal punto in vista di vista della creazione invece bene qui è un po contraddittorio a parte che a livello creativo molti perderanno il loro lavoro i vecchi lavori perché potranno essere fatti dall'intelligenza artificiale grande il duro colpo ricevuto dagli insegnanti che magari durante la pandemia erano i primi a chiudersi in casa perché a differenza dei commercianti che invece dovevano chiudere loro potevano fare la dad o comunque potevano essere pagati più facilmente adesso si trovano quando la pandemia è finita a vedersi ben presto soppiantare così come hanno già detto così come ha già detto bilgate o non mi ricordo chi l'intelligenza artificiale potrà soppiantare al 100 per cento gli insegnanti bene quindi molti lavori cadranno molti lavori finiranno e ma anche i lavori creativi molti lavori creativi potrebbero finire perché come potete vedere l'intelligenza artificiale è capace di creare testo di creare immagini e anche video allora molte persone come ho detto cadranno con l'avvento dell'intelligenza artificiale chi non saprà reinventare i propri lavori perdere il lavoro e magari sarà motivo di depressione e non saprà reinventarsi altri invece capiranno le potenze dell'intelligenza artificiale come abbiamo detto si faranno schiare da essa altri invece faranno la parte delle cose quindi potranno magari proporre diciamo lavori unici ancora umani e saranno molto richiesti per questo ma allo stesso tempo potranno farsi soltanto aiutare dall'intelligenza artificiale perché perché non siamo abbastanza bravi no semplicemente perché ognuno può essere diciamo un bravo pittore un bravo scrittore un bravo attore ma non necessariamente può essere bravo in tutto e spesso le opere di oggi le opere artistiche sono multimediali occorre dell'immagine occorre del testo occorre del video del del suono ci sono anche l'intelligenza artificiale che creano la musica bene queste persone se sapranno andare abbastanza lentamente non aver bisogno di microchip o di neural link al punto di sviluppare la loro idea autentica ma che però non potrebbero sviluppare da soli perché avrebbero bisogno di un'intera equip e questo spesso occorre pagarsi l'equip di collaboratori bene ognuno potrebbe essere un imprenditore ma nella ristrettezza nella pochezza che poi porterà saturno nel segno dei pesci che lancerà il progetto davos del sare non avrete più niente sarete poveri e sarete sarete felici bene sarete felici proprio per questo perché saremo creatori e avremo i mezzi di poter creare come degli imprenditori potremmo essere imprenditori della nostra arte senza aver bisogno per forza di collaboratori oggi chi riesce ad imporsi ha spesso dei soldi o ha più possibilità di altri perché in qualche modo è stato avvantaggiato dal destino della fortuna con l'intelligenza artificiale e questo è il lato buono del progresso noi potremmo far conoscere le nostre capacità la nostra arte ma di qualsiasi tipo anche arte manuale anche conoscenze più meccaniche tecniche anche in tutti i campi anche nel campo della ristorazione ho visto alcuni che fanno marketing in puglia di un nuovo tipo di pizza forma di stelle quindi si sono inventati tutto un concetto però effettivamente per qualsiasi sia la nostra arte quello che noi possiamo portare al mondo ci occorre spesso pubblicità ci occorrono mezzi ci occorre comunicazione ci occorre una squadra un'equipe completa che lavori per noi e questo non è più possibile a causa dell'austerità però l'intelligenza artificiale ci può apportare questa collaborazione a prezzo quasi zero che può aiutare a sviluppare al massimo noi stessi e questo rientra in tutti quelli che sono i valori dell'acquario e del leone e questo cambio di era dall'era dei pesci con l'opposto vergine all'era dell'acquario con l'opposto leone da una parte ci sono le energie dell'acquario che ci spingono all'individualità a un'individualità trovare un'individualità e un posto nel mondo per poter dare il massimo delle nostre conoscenze agli altri per migliorare la società dall'altra parte c'è l'archetipo del leone che invece ci spinge a migliorare artisticamente un po' più egoisticamente non per forza per uno scopo alto e societario ma semplicemente per l'ego per la voglia di esprimere con tutto il nostro diritto di farlo il massimo della nostra arte delle nostre capacità e della nostra generosità anche c'è un lato generoso nel leone anche se egoico e sarà poi questa questo equilibrio dei due opposti che ci porterà nel modo più equilibrato a fare le giuste scelte per cadere in quella parte giusta della società che ci porta verso l'alto la parte acquariana uraniana e non soccombere nell'altra parte del glifone sull'altra onda che è quella saturnina che invece ci schiavizzerà e questo può essere un bellissimo regalo che ci fa l'era dell'acquario un poter evolvere noi stessi individualmente per essere d'aiuto agli altri e avere tutti i mezzi per poterlo fare è un qualcosa a livello umano risplende di alti valori umanistici e ovviamente questo sarà il premio che potranno avere di una società acquariana positiva di una società acquariana che questo paradiso terrestre dove l'inquinamento la sovrapproduzione diminuirà anche la popolazione diminuirà e da un'altra parte l'ambiente sarà più tutelato quindi viveremo in un equilibrio fra ambiente umanità e tecnologia ma questo sarà solo un passaggio quindi si può dire però a sto punto che quindi l'intelligenza artificiale in qualche modo avrà i suoi lati positivi a un certo punto arriveranno anche i robot e l'intelligenza artificiale potrà lavorare proprio fisicamente sul piano fisico insieme a noi per fare una società più bella e quindi questo può essere considerato un qualcosa di paradisiaco di idilliaco ma che è preservato dobbiamo saperlo soltanto a chi saprà fare le giuste scelte sempre in base al suo livello di evoluzione e il suo aver appreso la fede nel cristo che era l'evoluzione verso la quale dovevamo andare in duemila anni e di rincarnazioni nel segno dei pesci bene coloro che saranno ancora in cristo che saranno in un primo momento anche perseguità come già lo siamo stati potremmo andare verso una società acquariana stupenda probabilmente non noi ma chi ci seguirà perché ovviamente questo si svilupperà su più anni ma a sto punto quindi l'intelligenza artificiale prometeica luciferina di cui abbiamo parlato spesso quindi anche un lato positivo no l'era dell'acquario l'era di lucifero non si può evitare quindi l'intelligenza artificiale la robotica deve avvenire siamo noi con le nostre scelte che possiamo rendere questa società attraverso un compromesso migliore quindi la società acquariana a renderla migliore e rendere una società non di schiavi e non di amebe ma è pertanto giusto quindi anche un'era luciferina è positiva è buona sì e no è comunque l'era dell'oppositore noi in quanto cristiani questo lo dobbiamo capire è l'era dell'oppositore siamo noi che facciamo la differenza ma rimane l'era dell'oppositore l'era luciferina prometeica di prometeo che ci porta alla fiaccola degli dei ma noi non dobbiamo mai cadere poi nell'archetipo del leone perché siamo nell'era dell'acquario nell'archetipo negativo del leone che è quello magari di crederci onnipotenti perché l'unico dio con l'energia del leone è il dio che ci ha creati e in quanto acquariani dobbiamo trasformare questa società luciferina dell'oppositore in una società piena di buoni propositi umani dai valori cristici e questa è la giusta scelta ma non vuol dire che l'era dell'acquario lucifero o prometeo siano buoni o cattivi o che siano buoni sono comunque divinità antiumane non sono divinità della creazione biologica quindi lavorano contro l'umano questo bisogna sempre tenerlo in mente siamo noi a creare un'era dell'acquario umana ancora umana che fra l'altro è l'ultima era umana quando poi si entrerà nell'era del capricorno e che entriamo nell'era del capricorno proprio perché ci sarà stata l'era dell'acquario ci sarà stato l'intervento della robotica dell'intelligenza artificiale e del satana satana cibernetico come lo chiama va bene diciamo il nome leo zagami bene questo satana cibernetico è comunque satana è comunque l'oppositore noi lo rendiamo meglio per l'umanità lo smussiamo ma il fatto che comunque questo oppositore arriverà non è una cosa buona perché dopo ci consegnerà nelle mani di un altro oppositore ben più cattivo che è satana saturno dell'era dell'acquario non si tratta più di lucifero di prometeo che ci porta la fiaccola ma si tratta del vero saturno dell'età del capricorno lì dove saturno risiede la vera era di satana e sarà lì che finirà l'epopea umana per poi ripartire su altre cose e poi partire verso nuove avventure planetarie verso un nuovo ciclo di 25 mila anni di viaggio del sole intorno alla galassia ebbene con questo per la strategy di oggi è tutto vi auguro un buon fine settimana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti